Tenere i cani legati ad una catena è ancora permesso in tante regioni italiane, ma non in Campania, dove dal 2019, con un'apposita legge, è stato deciso di mettere fine a questa barbarie. Poi, nella scorsa primavera, è stato anche colmato un vuoto amministrativo con un emendamento, che ha introdotto pesanti sanzioni, da 300 a 2.000 euro per chi detiene cani o altri animali d'affezione, alla catena o altro strumento di contenzione similare. Nonostante di viete e sanzioni, è una pratica ancora molto usata anche da queste parti, come dimostrano i numeri dei controlli, che la Guardia Nazionale Ambientale, con a capo il dirigente del Centro-Sud Antonio D'Acunto, sta effettuando in tutto il Salernitano, oltre 100 operazioni di polizia zoofila su tutto il territorio. Diverse le segnalazioni di cani tenuti legati, molti sono stati liberati e si possono così raccontare storie a lieto fine. Poco tempo fa, spiega D'Acunto, salvammo una cagnolina tenuta in un recinto fatiscente, al sole e senza acqua, da una signora a Sassano, una vedova che non poteva più prendersene cura, quindi decidemmo di farla adottare. È partita una catena di solidarietà per Cita, questo il simpaticissimo nome della cagnolina che sta per partire per la Liguria, ha trovato casa. A spese della Guardia Nazionale Ambientale è stata curata, microcippata e affidata a Marta Gallitiello, che l'ha tenuta a Monte San Giacomo e organizzato l'adozione. La catena solidale ha visto coinvolte anche volontari di Sassano, Giuseppina Libretti e Maria Antonietta Pellegrino, Giorgia Rozza di Empa Milano, che si è messa fin da subito a disposizione, e Barbara Rodoero di Codine Cercano Casa, che la sta portando verso la sua nuova famiglia. Questa storia a lieto fine non deve far abbassare la guardia, come conferma D'Acunto, nel Vallo di Diano purtroppo, troppo spesso, afferma siamo costretti a fare sanzioni, viste le condizioni in cui molti tengono gli animali.